Musica Ok, io mi sento bene. Allora, mi suono qualche pezzo Mi suono qualche pezzo di genere diversi per farvi sentire le varie potenzialità della testata. In più, tra l'altro... Allora, mi suono qualche pezzo di genere e non mi suono qualche pezzo di genere e non mi suono qualche pezzo di genere e non mi suono qualche pezzo di genere in una volta, quindi ne presento una che è questo. Testata e cassa, ci tengo a dire da subito testata valvolare. Abbiamo due casse, una due coni da 10 che è quello in alto con Twitter e l'altra un cono da 15 con Twitter. Ci tengo a sottolineare che entrambi Twitter delle due casse sono regolabili. Questo rende questo Stax che vi presento con cui suono un po' di roba altamente configurabile e utilizzabile in diverse situazioni. Perché? Provate a pensare dal punto di vista. Allora, configuro il mio suono. Ci tengo a dire che il mio suono è un po' estremo perché io sono un po' fatto così. E è il mio suono. Ok? Non è meglio degli altri. Cerca di essere diverso perché io generalmente in qualsiasi situazione suoni cerco di fare in modo che la mia riconoscibilità sia sempre la stessa. Stai fermo. Ok? Sia sempre quella. Ok? Quindi tendo ad estremizzare molto la zona media per far sì che tutte le note si sentano. Nel bene è male. Allora. 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 L'estitio a me direttamente perché se magari mi viene voglia di... Comunque fuoresce un suono abbastanza presente, io non rischio di avere quell'effetto sgradevole. Comunque fuoresce un suono abbastanza presente, io non rischio di avere quell'effetto. Comunque fuoresce un suono abbastanza presente, io non rischio di avere quell'effetto. Comunque fuoresce un suono abbastanza presente, io non rischio di avere quell'effetto. Comunque fuoresce un suono abbastanza presente, io non rischio di avere quell'effetto. Comunque fuoresce un suono abbastanza presente, io non rischio di avere quell'effetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.